Buone notizie per l'Orlandina Basket arrivano dalla gara amichevole di sabato contro Trapani. La squadra di coach Marco Sodini ha infatti avuto la meglio sulla compagine Granata per 81-73. Bisogna precisare che si trattava soltanto di uno scrimmage tra le due uniche formazioni siciliane impegnate nel campionato di Serie A2 e dopo ogni quarto il punteggio veniva azzerato. Questi i parziali 14-23, 31-14, 20-16 e 16-20. Per i biancazzurri Ottimo Taflai con 21 punti con 4 su 6 da 3 punti, 14 punti e 6 assist per Jordan Floyd, in doppia cifra anche Bellan con 10 punti, 9 per Guy, 8 per Johnson e un buonissimo Samuele Moretti, 7 punti e 12 rimbalzi poi per Abdel Fal, mentre 6 punti per il giovane Tintori. È un momento della stagione abbastanza particolare perché sappiamo che l'aumento dei contagi, il covid e tutto il resto non ci dà la garanzia delle partenze che vorremmo, però ho un gruppo di ragazzi che sta lavorando benissimo e moltissimo. Oggi francamente per me non era una buona giornata perché un mio amico è mancato ieri, uno era un allenatore di palacanestro, quindi ho evitato di dirlo ai ragazzi, ma i ragazzi lo sapevano e sapevano anche che ci tenevo che loro approcciassero la partita nel modo giusto. Chiaramente il primo quarto non l'abbiamo giocato bene, però l'approccio dal punto di vista mentale, per quanto sia difficile giocare degli scrimmage in questo momento, è stato ottimale e probabilmente è stata la partita più equilibrata che abbiamo giocato sui quattro quarti. Ci sono stati come al solito spunti positivi e spunti negativi, vorrei che fossimo più brillanti e aggressivi ma perché sono incontentabili. Credo che in realtà la partita di oggi sia stata assolutamente ottima per consentire ad alcuni giocatori di prendere confidenza con quelle che penso che siano le loro capacità. Voglio citare Celista Fly, sono contento che sia rientrato Simone Bellanna dopo un periodo in cui ha fatto fatica proprio a fare allenamenti. Abbiamo colto l'occasione per dare qualche minuto anche a Tommaso Tintori e Andrea Del Debbio. Io credo che questa squadra abbia ampio margine di crescita e deve farsi forte soprattutto del fatto di allenarsi bene, cosa che stanno facendo e che devono continuare a fare.